Un incontro di formazione per poter svolgere in modo consapevole l'esperienza di volontariato all'interno della Misericordia di Betlemme. Don Simone Imperiosi, correttore della Federazione delle Misericordie della Toscana, è stato ospite ad Andrea della Federazione di Puglia per formare i circa 70 volontari pronti a partire da tutte le Misericordie di Puglia alla volta di Betlemme per la propria settimana di volontariato in Terra Santa. Un momento di crescita e di grande condivisione svolto all'interno dell'auditorium di Via Vecchia Barletta nella sede della Misericordia di Andrea. Viviamo delle esperienze di servizio molto forti con bambini, bambini disabili, ragazzi in difficoltà e anziani ma soprattutto diamo la possibilità a tutti i confratelli delle Misericordie italiane di poter far servizio, cioè indossare la nostra amata divisa in un territorio dove affondano le radici del nostro movimento, le radici cristiane e le radici più belle alle quali vogliamo ancora essere fortemente legati. E quindi ecco, l'invito, la giornata di oggi vissuta qui ad Andrea, l'invito è quello di poter davvero andare, vivere queste giornate, vivere queste settimane di servizio perché possono solo accrescere in noi il senso vero del volontariato e ci fanno tornare a casa migliori, pronti per poter continuare a spendere bene il nostro tempo. A Bethlehem è il luogo sacro della cristianità. Le Misericordie d'Italia hanno scelto di inaugurare una sede già a fine 2013 per un progetto che prevede un servizio costante con volontari provenienti da ogni parte d'Italia per compiere proprio opere di misericordia in diversi centri in ausilio alla confraternita di Bethlehem. Diciamo che la misericordia di Bethlehem è a disposizione delle varie realtà di servizio che ci sono nella città di Bethlehem. Noi non abbiamo portato niente, ci siamo messi a disposizione e questo è stato apprezzato tantissimo. Infatti viviamo del servizio e delle realtà di bambini, soprattutto due case, una di riabilitazione per sordomuti ed una per bambini gravemente disabili, abbandonati e un'altra realtà invece che è una casa di riposo per anziani. Queste tre realtà ci vedono impegnati in maniera forte, in un'esperienza che ci fa solo bene per arricchire il nostro bagaglio. È vero che diamo molto, ma quello che riceviamo è molto di più. Dalla Puglia sono già stati tanti i volontari che in questi anni sono partiti per la Terra Santa e sono già pronti i prossimi quattro giovani che da Andrea partiranno dal 13 al 19 aprile per la propria esperienza di servizio a Bethlehem. Misericordie che tuttavia continuano a lavorare in silenzio e con costanza per formare e dare concretezza alle azioni di servizio. Misericordie che tuttavia un'esperienza di servizio.